Non sarà una passeggiata di salute, è ovvio che poi è la UEFA Champions League, quindi è difficile trovare delle squadre veramente, veramente abbordabili in materasso da sottovalutare, perché se no semplicemente non si sarebbero mai qualificate in questa competizione molto importante. Però qui stiamo parlando di una vera e propria squadra importante in questo avvio di stagione, perché l'Ipsia in Bundesliga è imbattuto e una delle squadre in Europa insieme alla Juventus a non aver ancora mai perso nei principali campionati. Quindi, certo c'è anche l'Empoli in Italia, indubbiamente, ma noi stessi con l'Empoli non siamo riusciti ad andare oltre un pareggio per 0-0. Non sono riuscito a guardare delle partite dell'Ipsia, quindi partita da questo presupposto. Ho semplicemente analizzato dei dati che possiamo trovare banalmente tutti su internet, non ho avuto la possibilità di recuperare delle partite. Però l'Ipsia è una squadra che è partita molto forte, in questo momento si trova al terzo posto in Bundes, al primo posto c'è ovviamente, neanche a dirlo, il solito Bayern Monaco. L'Ipsia ha subito soltanto due gol fino a questo momento, ha vinto tre partite e ne ha pareggiate due. Quindi stiamo parlando di una squadra sicuramente in forma, stiamo parlando di un incontro tra una squadra che sta facendo bene in Serie A con la Juve e una squadra che sta facendo bene in Bundesliga contro l'Ipsia. Dall'altra parte, in Champions, nell'unica partita giocata, invece l'Ipsia ha trovato una sconfitta, perché quando parliamo di imbattibilità di difesa della Juve, non è che siamo matti, è che l'imbattibilità si riferisce ai campionati. Quindi la Juventus in campionato non ha ancora mai preso gol ed è una delle squadre, anzi l'unica squadra ancora imbattuta dal punto di vista dei gol subiti in Europa, nei principali campionati. Invece, sia Juve che l'Ipsia sono imbattute nei principali campionati, anche se l'Ipsia ha già perso all'andata in Champions contro l'Atletico Madrid, che è una squadra che non devo stare qua io a descrivervi per difficoltà. Abbiamo visto anche l'amichevole quest'estate, la Juventus ha perso l'amichevole estiva contro l'Atletico Madrid, anche un risultato abbastanza rotondo, però l'Atletico sembra una squadra difficilissima da andare a affrontare. Quindi significa che l'Ipsia è una squadra non imbattibile, è una squadra a cui si può far male, ma è anche una squadra molto in forma in questo momento. Questo è un dato di fatto. Principali pericoli a cui stare attenti? Beh, i due attaccanti, Openda e Sesco, senza disinteressarsi particolarmente a Xavi Simon, che è un giocatore di cui si è parlato tanto anche in chiave mercato negli ultimi anni. Ecco, quei tre lì, che dovrebbero essere disposti o in una difesa 3 o in una difesa 4, che potrebbe essere un 4-4-2, sono i principali pericoli, con le due punte che hanno già segnato quattro gol a testa. Un po' come Blauvic, sono gli stessi numeri. Quindi, dall'altra parte, bisogna capire come andrà ad affrontarla la Juve. Ecco, io qui vi ringrazio perché ieri abbiamo pubblicato, tra l'altro, un orario molto scomodo, perché in tarda serata la conferenza stampa di presentazione di l'Ipsia Juventus da parte di Tiago Motta, ed è stato un contenuto che è andato molto bene. Avete apprestato veramente tantissimo. Mi fa piacere, perché in primis la conferenza stampa di Tiago Motta a me era piaciuta tanto e mi sono molto immedesimato all'interno del contenuto per portarvi qualcosa di un po' più elaborato e di molto molto più lungo anche della stessa conferenza stampa dell'allenatore. Quindi bisognerà capire le contromisure che l'allenatore vorrà cercare di prendere in confronto di una squadra che comunque mette in campo tanto potenziale offensivo. E questo potrebbe essere un vantaggio per la Juve, perché significa lasciare più spazi. Poi, se l'Ipsia ha subito ancora così pochi gol in stagione, significa che anche la loro fase di non possesso palla è di livello. Quindi non dobbiamo attenderci una partita siccome è particolarmente bloccata, nonostante due squadre con delle difese molto importanti, delle fasi difensive, perché di questo dobbiamo parlare molto importanti. Una partita che secondo me può nascondere dei gol. Poi è ovvio che la Juve ci ha dimostrato che fino adesso i risultati sono o tre gol o zero, quindi magari questa potrebbe essere la prima volta in cui la Juventus riesce a trovare un risultato alternativo nella casellina dei gol segnati. Ieri Tiago Motto ha detto di aver già deciso la formazione. Qui si apre un po' la discussione del tipo chi saranno gli undici scelti e gli undici che sanno, anzi tutti in realtà la sanno già, però la squadra sa già la formazione, chi saranno gli undici che inizieranno questa partita. Io credo che oggi vedremo veramente quelli che sono i titolari nella testa di Tiago Motta. Poi magari mi sbaglierò, vado a tradurre. In porta di Gregorio, sugli esterni, da una parte a destra Calulu, a sinistra Cambiaso, i due centrali Gatti, che dopo aver smaltito questo problema a Caviglia, secondo me può essere finalmente pronto a tornare titolare. Bremer, che è il vero insostituibile, abbiamo parlato anche ieri in un video, è l'insostituibile da Juventus, quindi la retroguardia dei portiere e i quattro, secondo me questa è la titolare, se tutti stanno bene ovviamente. In caso di Gatti ancora un po' claudicante, ecco che possano nascere delle sorprese. Nel caso non mi aspetterei Danilo. No. Nel caso mi aspetterei o Cabal a sinistra con Cambiaso a destra, ma anche ieri vi spiegavo che secondo me ormai si ragiona più per catene, e quindi la catena di destra oggi ha degli automatismi tra Calulo e Nico Gonzalez che vanno mantenuti, e quindi Cabal mi sembra aver fatto un bel passo indietro nelle gerarchie al momento di Tiago Motta, e credo quanto più che in quella posizione si potrebbe vedere Savona, anzi non in quella posizione perché Cambiaso rimarrebbe a sinistra e Savona andrebbe a destra. Cioè oggi la gerarchia mi sembra questa. Titolare Calulu riserva Savona, con Calulu che nel caso slitta al centro, e a sinistra titolare Cambiaso riserva Rui. Cabal secondo me lo vede davvero in coppia con Bangula, quindi quando tornerà Bangula titolare secondo me tornerà pure Cabal. Questa secondo me oggi è la lettura più adeguata della difesa. A centrocampo, conferma per Fagioli, ritorno di Turam, sorpresa Douglas Lewis, per me ci va Locatelli, anche perché ha fatto zero minuti nella partita di Genova, se non è stato turno per quello. Sarei stupito di non vederlo Locatelli titolare oggi. Qualcuno ha paventato l'ipotesi, ma secondo me giocherà lui. Con gli altri due centrocampisti che saranno McKennie e Cobmeiners, che oggi queste sono secondo me le mezze ali titolari di Tiago Motta. Poi qua sarà interessante capire se sarà nuovamente una destra o una sinistra, magari anche invertiti perché abbiamo visto che li sta facendo girare a seconda degli avversari, o se si ripartirà da quella configurazione con McKennie come mediano di supporto a quello che può essere, tra virgolette, il metronomo della squadra, quindi Locatelli. Mi piacerebbe vedere questa configurazione perché per me ha funzionato molto col Genova, ha aiutato lo sviluppo del pallone, ha aiutato a creare spassi, ha aiutato a velocizzare la manovra. Quindi io andrei ancora di 4-2-3-1, ma non è detto che Tiago Motta scelga di disporre i giocatori nella maniera con cui siamo riusciti a sbloccare il match di Genova. E poi sugli esterni, secondo me siamo ormai focalizzati su Hildiz a sinistra e Nico Gonzalez a destra, in questo caso, allora, i due terzini, Cambiaso e Savona, o Cambiaso e Calulu, o quelli che saranno, dovranno per forza di cose andarsi a prendere quell'ampiezza. Perché Hildiz a sinistra e Nico a destra, l'abbiamo già detto mille volte, tendono ad accentrarsi. Tendono ad andare a riempire una zona di tre quarti campo, e allora serve della spinta da parte dei terzini. Cambiaso non è uno che spinge tanto, almeno lo fa, ma per vie centrali è uno che si accentra tanto entra dentro il campo. Difficilmente lo vendevamo andare a prendere quella posizione lì di esterno, sinistro. Calulu per definizione spinge di meno, per questo ho un po' il timore che il primo tempo, perlomeno, possa essere sulla falsa riga di quello che invece abbiamo già visto con il Genoa. Perché anche se Cambiaso stringe dentro e andiamo all'impostazione 3 più 2, Nico Hildiz, l'ampiezza non se la vanno a prendere. Questo è il mio grande timore, davvero grande timore, in questo momento. Anche se dovesse essere 4-2-3-1. Ed avanti Vlaovic, perché giustamente non c'è in questo momento un'alternativa, perché Vlaovic si è sbloccato, perché viene da due gol, perché se non l'hai messo in panchina nel momento in cui l'avevi sostituito dopo 45 minuti con il Napoli, sicuramente non lo metti in panchina dopo che ha fatto una doppietta a Malassi con il Genoa. Anzi, cerchi di sfruttare questo momento e vai a utilizzare il tuo numero 9. Quindi queste sono un po' le perplessità che ho sulla formazione, non tanto perché non mi vadano bene i titolari, no, per me vanno benissimo, però poi per il tipo di impostazione di Tiago Motta, secondo me, o siamo più verticali, quindi andiamo prima a trovare Ildiz e Nico Gonzalez, anche a costo di essere meno impattanti dal punto di vista del palleggio, o se no, se vogliamo giocare con il 3-2, Ildiz e Nico non mi sembrano per niente i due giocatori adatti ad andare a ricoprire luoghi esterni, perché stringono troppo e andiamo a perdere tanta ampiezza. Quindi o sono i terzini che vanno a prendersi quella posizione, o bisogna essere più verticali e meno di palleggio. Questa, secondo me, è la lettura adatta. I titolari credo che saranno quelli, ve li ripeto, Di Gregorio, Cambiaso, Calulu, Gatti, Bremer, Locatelli, Meccanico, Mainers, Ildiz, Nico e Vlaovic. Poi Tiago Motta ci ha sempre abituato alle sorprese. Dall'altra parte c'è un tritico di giocatori particolarmente pericolosi e una squadra che ha un'ottima capacità difensiva. Quindi ragazzi, come stasera ci divertiremo, perché sarà forse la prima vera grossa, grossissima partita dell'evento stagionale, secondo me anche maggiore a quello che è stato il livello di difficoltà del Napoli. Sono abbastanza convinto di questa cosa, però lo scopriremo insieme e ci divertiremo, come al solito, in live su Twitch e poi torneremo qui per commentare la partita con tutte le sue sfumature e sfaccettature. Ciao ragazzi!